Buonasera a tutti, questo video mi è venuto in mente, diciamo così, di farlo in quanto sto ricevendo diverse domande che riguardano un argomento, questo argomento come capirete dal titolo riguarda le femmine che spiumano i piccoli nei nidi, questa cosa diciamo così nel mio allevamento non succede mai o meglio può succedere che al massimo 3 o 4 canarini su 100 vengano spiumati ma questo perché io devo essere distratto in quanto esiste una tecnica ben precisa che io più volte di cui più volte ho parlato ho anche pubblicato forse due o tre video, uno ve lo lascio sotto e poi ve lo guarderete proprio dove faccio vedere proprio la tecnica nella pratica, quindi questa sera nuovamente vi spiegherò perché le femmine spiumano i piccoli, come sempre io non mi rivolgo agli allevatori esperti che già sanno come fare, mettono tre nidi, mettono tre nidi, mettono l'aiuta, io ho una mia tecnica, questa mia tecnica è dettata dall'esperienza ma anche da dei dati diciamo così scientifici che riguardano il comportamento di una canarina femmina in una gabbia, quindi inizio col dire praticamente che quando i pulli hanno 16-18 giorni, queste cose se volete ve le potete anche scrivere, quindi quando i piccoli canarini nascono, quando hanno 16-18 giorni, la canarina femmina incomincia a mostrarsi irrequieta, irrequieta perché vuole fare il secondo nido e questo comportamento quindi di irrequietezza e di ricerca la vedete perché ripeto, quando i piccoli hanno 16-18 giorni, la femmina che fino a quel momento è stata dolce, calma e tranquilla, la vedrete che andrà sul fondo a cercare di strappare carta se avete nei fondi della carta, attirare l'aiuta che già è nel nido dove sono i presenti piccoli e quindi è alla ricerca di farsi un secondo nido, questo è un comportamento totalmente naturale, quindi la canarina non farà il nido quando i piccoli saranno sversati ma lo farà molto prima, direi quasi a metà dei giorni, cioè a 16 giorni i canarini sono già impiumati e la canarina tenderà a farsi il secondo nido, il secondo nido dovete sapere che la canarina tende a farlo nel nido dove già ha fatto la prima covata, quindi nel nido dove già sono presenti i piccoli che ha fatto, che cosa farà? Quindi farà di tutto per farli saltare dal nido, per fare questo naturalmente inizierà a spiumarli per farli saltare cercando di fargli male proprio per stimolarli a farli uscire, allora può succedere che alcuni piccoli hanno questa capacità di saltare dal nido e andare sul fondo, altri invece rimangono nel nido e si lasciano spiumare, quindi capirete che questo non è la femmina che non è buona e aggressiva o non è una buona femmina, ma è la femmina che sta semplicemente per via di fattori naturali cercando di farsi il secondo nido, allora alcuni elevatori consigliano di mettere un secondo nido sempre nella gabbia mettendo dell'aiuta abbondante e quindi così risolvere diciamo così questo problema, io vi assicuro che questa cosa non funziona quasi mai in quanto ripeto la canarina tende a nidificare nuovamente nel nido in cui ha fatto la prima covata, voi potete mettere tutti i nidi che volete ma lei cercherà di farsi il nido proprio in quel nido e là, quindi come si può ovviare a questa cosa? Si può ovviare in un solo modo, mettendo un separé tra i piccoli e la mamma e i genitori, mettendosi un separé, quindi in questo modo la canarina non potrà arrivare al nido dove è deposto in quanto impedita dalla griglia, quando metterete il nuovo nido vedrete che praticamente immediatamente quando i canarina avranno 20 giorni lei inizierà a costruirsi il nido senza problemi dall'altra parte, per fare questo però bisogna prendere delle accortezze, quando voi mettete il separé e mettetelo senza paura, ripeto guardate bene il video dopo che vi lascio il link sotto questo altro, sotto questo video che sto registrando, c'è una cosa molto importante da fare che è quella di allargare le griglie delle sbarre del separé, vedete questo è un separé di una gabbia con le griglie, con le sbarre non allargate, lo potete vedere bene, e adesso invece vi faccio vedere quello che utilizzo io con il mio metodo, che ecco è un separé dove io vedete ho allargato praticamente i buchi con una pinza, ecco qua lo potete vedere bene, vedete che sono allargati, poi li ho allargati vedete anche da quest'altra parte, che è la parte più sotto, vedete sempre in modo che il canarino piccolo riesce ad inserire la testa, poi ho fatto anche una piccola allargatura, vedete sopra, ecco in questo modo con questa griglia i canarini piccoli riescono ad inserire la testa dall'altra parte, i genitori riescono ad inserire la testa da quest'altra parte, quindi in questo modo non succederà che saranno impediti, perché i canarini non allevano becca a becco, ma diciamo le teste devono venire proprio a contatto, quindi per fare questo le sbarre devono essere allargate in modo appunto da poter far passare la testa dall'altra parte, ma non il corpo, in questo modo vedrete che avrete le femmine quando i piccoli avranno 25-26 giorni che già avranno le poste e staranno covando dall'altra parte della gabbia, i piccoli canarini che piano piano si svezzeranno con tranquillità, vedo alcuni buttare i canarini dal nido perché sono precoci, perché non saltano e quindi li fanno saltare in oro, fate attenzione perché questa è una pratica molto molto sbagliata in quanto i piccoli canarini quando saltano dal nido lo decidono loro e lo devono fare possibilmente, dato che siamo in un ambiente protetto e non in natura, quando se la sentono e nel modo più tranquillo possibile, per farlo bisogna separarli dai genitori a 18, se io li separo gli spagnoli addirittura a 14 giorni, ma diciamo massimo a 20 giorni per me è già tardi, quindi se effettuate questa operazione la dovete effettuare quando i piccoli canarini ancora non sono saltati dal nido, così avranno modo di saltare dal nido quando lo decideranno loro e in modo totalmente tranquillo, state tranquilli perché questa tecnica funziona, ci allevo i norvici, ci allevo gli spagnoli, i gloster, ci allevo i cardinarini, quindi è una tecnica che funziona al 100% e vedrete che tutte le femmine che avete sono tutte delle buone femmine, quindi io vi ringrazio sempre per la fiducia che voi mi date, vi consiglio, scusate il gioco di parole, di seguire i miei consigli perché funzionano e perché sono dettati veramente da anni di esperienze, di prove e di conoscenza proprio anche del carattere degli animali, quindi se effettuate questa divisione, vi ripeto guardatevi anche il video, vedrete che tutto andrà meglio, la canarina non nidificherà, non vorrà nidificare nello stesso nido delle prime covate in quanto voi glielo avete impedito e messo dall'altra parte il nido diciamo così pulito perché l'intento delle canarine non è quello di spiumare i piccoli ma è quello di buttarli dal nido per costruirsi un nuovo nido, una volta che li ha buttati li spiumerà per farsi il nido con le piume, cosa anche questa naturale, se voi li separerete e lei non potrà arrivare a spiumarli, vedrete che accetterà subito l'aiuto e quindi non avrete problemi, vi ripeto guardate il video che ho girato un paio di anni fa e ho inserito anche qualche piccola foto alla fine di questo video per farvi capire bene quante femmine io ho che stanno covando con i piccoli ancora nel nido e ancora da sversate, grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti